Ottimizzare l'utilizzo dell'energia e trovare nuove soluzioni per aumentare l'efficienza energetica. È cominciato a Napoli il tour dell'Enel, incentrato sullo sviluppo delle tecnologie del settore, che si ripromettono di far risparmiare ed insieme incrementare confort e qualità della vita, con ricadute su pillo, occupazione ed ambiente. Enel Green Solution parte oggi da Piazza Dante, con giochi, dimostrazioni ed esperimenti, e si sposterà poi in altre 25 città italiane per parlare di fotovoltaico e solare termico, caldaie a condensazione, climatizzatori, scalda acqua, pompa di calore, alta efficienza energetica, auto e biciclette elettriche. Innanzitutto ringraziamo Enel di aver scelto Napoli come prima tappa e questo è per noi motivo di orgoglio perché è una città che punta a essere smart city, a essere città intelligente, che vuole risparmio energetico, vuole le fonti rinnovabili, ha puntato su car sharing e bike sharing, car sharing via sperimentale è già cominciata, a maggio avremo le prime stazioni di bike sharing, è una città che ha forti radici e tradizioni ma è anche pronta all'innovazione, ha buone aziende in questo settore e quindi siamo pronti per questa nuova sfida.